Sicuramente molto positive, è molto emozionante essere qua, è anche una cosa un po' inaspettata diciamo perché sono partito per le vacanze l'altro ieri e già ieri sono dovuto tornare però sono molto contento. Sì, ho sempre giocato a terzino tranne l'ultimo anno di primavera che ho fatto il quinto con la difesa a tre, però ho sempre fatto il terzino. Il mio ruolo mi è sempre piaciuto Daniel Alves, ho seguito tanto Sergio Ramos che poi è stato passato a difensore centrale mi è sempre piaciuto De Scillo e Darmiano. Al di là del mio ruolo io sono cresciuto con il mito di Del Piero per me è giusto che è stato un grande professionista sia come giocatore ma soprattutto come uomo. Mi ricordo Grande Milan quando c'era Ebrahimovic, Ronaldinho, Pirlo, era pieno di grandi giocatori che potevano trovare la giocata da un momento all'altro. Mi trovo molto bene, è una maglia che mi piace e spero di onorarla al meglio. Prevento, magari quando c'è da far compre, in genere si viene a Milano che è la città appunto conosciuta per questo però conosco abbastanza il posto. Ma a tutti e due, io mi trovo alla grande con tutti e due. Calabria lo conoscono un po' di più anche se comunque lo cattaglia di Lecco, però ho confidenza con entrambi e mi trovo bene con tutti e due. A me la carbonara, la carbonara non ha gusto particolarmente, sì. Quasi non ci credevo, però appena il mio procuratore mi ha manifestato questa possibilità io ho subito deciso che avrei voluto vestire questa maglia. Milan è tra le società più tutelate nel mondo e è stato un onore essere cercato da Milan.